... Sono stato 20 giorni in prigione a Cuneo Perché ho disubbidito decine di volte i fogli di via in Valsusa Mi hanno espulso da 7 comuni per più di 3 anni Forse l'hanno anche rinnovato Non ho contattato l'avvocato e da novembre ero in latitanza, non lo sapevo Ho fatto digiuno, 15 giorni ad acqua e gli ultimi giorni ho mangiato un po' di frutta Ho scritto questa canzone Il secondino ritma la notte Trascina i passi lentamente Quasi le scarpe fossero rotte Svolazza libera la mia mente Ci hanno fermati a Limone, alcuni io vicino Mentre accompagno Pina a Torino Sono 20 giorni di vita reclusa I fogli di Dio di via Violati in Valsusa Al terzo giorno già del digiuno Mi sono chiuso ormai nel mio buscio Fuoco alle carceri Grido a qualcuno Lo psichiatra la siringa pronta sull'uscio Sedici mesi a giugno in prigione Il bus di Niscemi mi darà una lezione L'educatore a un fare bonario Scrivo sul muro il mio calendario Fatima compie oggi cent'anni Tre settimane ad acqua sola I sogni annunciano gioie ed affanno Ma c'è la gran madre che mi consola Che Dio ce ne scampi da sbirri e da sgherri Papa Giovanni il 3 giugno la morte Con le chiavi di Pietro apra sti ferri Mi liberi presto dalla mia sorte Gente d'Italia da sempre prigiona Della paura che atteneglia la mente Buttiamo a mare che è l'ora buona Le masi di morte e chi le consente Buttiamo a mare il governo ladrone Che butta a mare i migranti e in prigione Chi si fa pecora la mangia è il pastore Il meno governo è il governo migliore Non aspettiamoci un altro Cristo Per riscattare un mondo si tristo All'uostini scemi ti aspetta il piccone La pace non muore in prigione Spade in arafri forgiamo la pace La bomba atomica per sempre tace Con il martello disarmiamo la guerra E sarà pace su sola nostra madre terra Sotto un governo ingiusto Per un uomo che vuole essere giusto Il posto giusto E anche il prigione Come avete capito dovrò scontare 16 mesi Per aver disarmato la parabola di Niscemi E ho chiesto di fare la badante A mia sorella qua a Torino Nel suo alloggio a Viarton 24 ore su 24 Se mi concedono anche di stare qui Al Sereno Regis al mattino Se la domanda sarà accettata Entro poche settimane penso Dopo un piccolo viaggio Di due mesi in giro per il mondo Grazie Grazie